Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, siamo qui con una cover realizzata per iPhone 4 marchiata B-Cubed, come già potete intravedere parliamo di una cover rigida, completamente trasparente con la peculiarità di essere serigrafata sul lato posteriore mediante laser, come vedete la custodia, il blister è interamente finestrato così da permettere un'agevole visione del prodotto, questa finitura, vediamo se riusciamo a zoomare, come vedete è quasi impercettibile, tuttavia rappresenta quasi una rarità, ecco possiamo definirla così, nell'ambito delle cover per iPhone, come vedete una volta applicata sembra quasi apporre un tatuaggio sulla parte posteriore dell'iPhone 4, mantenendo ovviamente l'accesso ai tasti laterali, aperta sopra, aperta sotto, permette un'ottima tenuta del telefono in sede, come vedete non ci sono rischi di caduta del telefono in sé. Unboxing che termina qui, la cover sarà poi trovata sia nelle tasche di pantaloni piuttosto che nell'uso in borse quotidiane, vediamo poi quindi la tenuta della qualità anche della serigrafia posteriore, in ogni caso questo unboxing appunto è terminato, vi invito a iscrivervi al canale così da non perdere futuri approfondimenti su questo e altri prodotti. Un saluto, a presto da Giuseppe Ragozzino.